Spesso quando vado per strada incontro qualche persona, siccome c'è il servizio sanitario nazionale, ma c'è anche il servizio sanitario stradale al quale io sono addetto, per cui dietro strada mi fermo, buongiorno dottor, e mi domandano un parere. Ma molte volte parliamo anche di politica e uno degli argomenti è, ma se si dovesse andare a votare per chi si vota? Ah, per chi si vota. Allora io vorrei fare un salto nel passato, quando c'era la democrazia cristiana, c'era il partito comunista, c'era il partito socialista e c'erano delle autentiche discussioni davanti al caffè trentino. C'era la corrente liberale alla quale io appartenevo e naturalmente una parte della democrazia cristiana e i repubblicani e la parte invece di sinistra comunista, ma c'erano due ideologie contrapposte. Una parte era per nazionalizzare tutto, se si fosse potuto io avrei a nazionalizzare anche le scarpe. L'altra parte alla quale io appartenevo eravamo i grandi sostenitori dell'iniziativa privata, l'Enel era sostenuto dalle sinistre, la riforma sanitaria era sostenuta dalle sinistre, la nazionalizzazione di alcune industrie era sostenuta dalle sinistre, noi arriviamo. Ora io credo che la grande vittoria del partito a cui ho appartenuto i liberali l'abbia messa in atto tutta la sinistra, perché tutta la sinistra ha fatto tutta una serie di privatizzazioni che tutta la destra aveva sostenuto da sempre. Ma la cosa che oggi lascia perplesso è che tutte queste differenze sono venute a cadere, perché in fondo quale può essere una differenza sostanziale tra un partito e un altro? L'argomento di cui si parla oggi, se lei è gay, non è gay, lei è lesbo, non è lesbo, a mia dire la verità non me ne frega proprio niente, perché si vuole sposarsi chi si sposa, chi si separa, anche perché parliamo di minoranze, non mi risulta che ci siano 60 milioni di gay e 60 milioni di lesbo, mi risulta che ci sia una percentuale molto bassa e che può incidere, poi ci saranno questioni di moralità, non moralità viste da sinistra, ma i problemi di fondo, le poste è meglio prima quando erano nazionalizzate o adesso che sono privatizzate? La telecom era meglio prima quando era privata, cioè che era nazionalizzata o adesso che è privata? Le ferrovie erano più puntuali, funzionavano meglio quando erano dello Stato e adesso che sono private? È una grande domanda, ma per il Trentino è anche una grande domanda, perché uno dice c'è l'UPT, e cosa vuol dire l'UPT? Unione per il Trentino, e gli altri perché sono per la disunione del Trentino? Poi c'è il PAT, il PAT è il partito che sostiene l'indipendenza del Trentino, e vabbè d'accordo, tutti volevano l'indipendenza del Trentino, il PD, anche quello non mi risulta che voglia fare la divisione del Trentino, gli argomenti di fondo la gente non li conosce più, perché oggi votare a sinistra, votare a destra, c'erano ai nostri tempi, perché c'erano delle differenze sociali fondamentali, un contadino o un operaio viveva in una maniera totalmente diversa da un professionista, dal medico, dal farmacista, dall'ingegnere, oggi il tenore di vita è realmente cambiato. Quando io andavo in una cucina dei contadini, era una roba impressionante, perché i gabinetti erano fuori, la cucina era metà celesti e metà bianche, il riscaldamento era dato solamente dalla cucina economica, fate un salto e guardate oggi chi è che ha più la cucina economica e riscalda l'appartamento, quindi c'è stato indubbiamente un cambiamento, quindi tutti i valori che la sinistra, per la verità, li sottenevamo anche noi liberali, sono venuti a cadere, allora votare per un partito ci vorrebbero degli argomenti molto solidi, uno dicesse non voglio più le strade asfaltate, quell'altro dice no, le voglio di polvere, oppure non so quale argomento, non vogliamo più le case di sette piani, ma vogliamo le case solo a un piano, degli argomenti che la gente può scegliere, oggi è difficile, se dovessimo andare a votare per il Trentino, io credo che non ci sia nessuno che vota perché non vuole l'autonomia, tutti vogliono l'autonomia, tutti anche non vorrebbero l'orso e di questo mi piacerebbe parlarne ancora la prossima volta.